Speriamo di essere più fortunati questa volta con l'audio, allora come abbiamo presentato il nostro ospite, ha visitato più di 20 paesi nel mondo portando i suoi spettacoli anche in contesti difficili, siamo collegati con Pasquale Cesarino, in arte Mago Linus, lo ringraziamo di cuore anche per la pazienza. Buongiorno Pasquale. Buongiorno, buongiorno, chiedo scusa, spero che voi mi sentiate. Ti sentiamo, forte e chiaro, evviva. Scusate, c'è stato qualche problema tecnico. Beh, insomma, come dire, è il bello della diretta. Allora, è vero che quando sei nato l'ostetrica ti ha preso in braccio, tu l'hai guardata e le hai detto, pensa a una carta? È andata proprio così, me l'hanno raccontato perché io non mi ricordo. Come nasce questa passione per la magia Pasquale? Pasquale. Allora, io ho iniziato a fare il prestigiatore che ero un bambino, avevo solo nove anni, la classica scatola magica che viene regalata nel Natale, nelle festività. Così è iniziata una passione che poi mi ha condotto a farlo di mestiere. Ecco, e poi ti sei appassionato appunto a questo, sei diventato un prestigiatore, ma come dicevo anche in presentazione, hai portato la tua arte in contesti difficili. Quali? Grazie a Dio si sono aperte tantissime porte in tutto il mondo e dico grazie a Dio perché è da più di un anno e mezzo che io, in questo momento io e mia moglie, siamo missionari a tempo pieno. E attraverso i giochi di prestigio, nel mio caso, porto il messaggio di Gesù, del Vangelo, della salvezza all'estremità della terra. Quindi queste porte si sono aperte negli anni e ad oggi, come avete appena detto, più di 20 paesi in tutto il mondo. Abbiamo già tutto il 2024 pieno di viaggi, spettacoli, eventi e quindi non è più solamente il mio mestiere, oggi è la nostra ragione di vita. In cosa consistono i tuoi spettacoli? Stiamo vedendo anche qualche immagine che ci dà il senso vero di questo lavoro missionario, come hai detto tu. Allora, le immagini che state vedendo sono dell'ultimo viaggio in Ruanda. Tra l'altro proprio ieri abbiamo fatto già i biglietti per ripartire, stiamo fondando un orfanotrofio, io e mia moglie, la nostra prima missione stabile. E lì stavamo visitando una delle tantissime scuole pubbliche, qui eravamo in ospedale, in una clinica a Milano. Insomma, giriamo dappertutto, sia in Italia che all'estero, facendo spettacoli che siano prima di tutto ludici per portare spensieratezza. Ma successivamente la strategia è quella dell'evangelizzazione e quindi portare le persone alla consapevolezza del messaggio del Vangelo. Quindi come può un gioco di prestigio, Magolinus, evangelizzare, raccontare il Signore? È una strategia che ho studiato negli anni a livello comunicativo, ma praticamente immaginate che il mio spettacolo duri circa un'oretta. E dopo mezz'ora del mio spettacolo io mi tolgo il cilindro, perché ho naturalmente l'abito che avete visto nelle immagini, e togliendo il cilindro mi spoglio della mia maschera. Quindi non sono più Magolinus, ma divento Pasquale, che parla al cuore delle persone, condividendo la mia testimonianza. Questa è stata la strategia migliore e forte che ho attuato negli anni. E qual è allora il messaggio che Magolinus, mettendo da parte la magia, porta e ha portato in più di 20 paesi del mondo? Dal 2006 ad oggi, leggo tra l'altro dagli appunti che abbiamo preparato insieme alla collega. Dunque sono 18 anni, quindi compi la maggiore età quest'anno, da questo punto di vista. Sì, non è sempre stato subito così. Naturalmente c'è stata una maturità, una crescita anche nel messaggio, studiando la parola di Dio, leggendola ogni giorno, avendo comunione e preghiera con Dio. Ma il messaggio è molto semplice. Gesù ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E Dio non è mai cambiato. Lui è lo stesso. Ieri e oggi è in eterno. Ha cambiato la mia vita, ha guarito le ferite del mio cuore. E il messaggio è che anche nel 2024 lui può guarire le ferite di chi sta guardando. Magolinus, se una fondazione, un ospedale, una scuola, una parrocchia volesse averti con sé, magari appunto fare uno spettacolo per i più piccoli, come fare per contattarti? Qual è l'iter da seguire? Molto semplice. Noi abbiamo delle persone che collaborano insieme a me e a mia moglie. Sul sito magolinus.com troveranno le mail, i contatti, possono contattarci. E noi siamo assolutamente disponibili per poter vedere, insomma, con il calendario, dove inserire una data. La domanda che voglio farti per chiudere la nostra chiacchierata è legata all'emozione che viene suscitata dallo spettacolo in sé, ma poi anche dall'annuncio. Ecco, quello che vorrei chiederti è, la gente rimane più impressionata nel prima, cioè mentre lo spettacolo viene fatto, mentre tu fai le tue magie? Oppure il livello di attenzione è sempre lo stesso anche quando spogli i panni del mago e assumi quelli del missionario? E in tutti e due i casi diventa uno stupore, perché a volte nessuno se lo aspetta se non mi conoscono, naturalmente. Quindi diventa una sorpresa e poi dopo la testimonianza io rivesto i panni del prestigiatore e chiudo con un effetto molto scenografico che è sia un gioco di prestigio, ma che parla e conferma la testimonianza detta, con un'esplosione di coriandoli. Eh, con un'esplosione di coriandoli, purtroppo l'abbiamo perso. Pasquale, magari cerchiamo di ripristinare il collegamento, giusto per i saluti finali. E a questo punto chiedo alla regia se fosse possibile rivedere. Eccolo, eccolo. Eccolo, oggi non siamo molto fortunati con la connessione. Dicevi, insomma, si chiude lo spettacolo con questo effetto, con dei coriandoli. Esattamente, questo effetto lascia stupiti tutti quelli che l'hanno visto, quindi è molto apprezzato, perché non è proselitismo, ovviamente, lo spettacolo, ma è condividere una testimonianza personale. Purtroppo, allora, non siamo stati molto fortunati con la connessione oggi, non l'abbiamo neanche preparata, ma potresti regalare agli amici di Padre Pio TV un gioco di prestigio, Magolinus? Assolutamente. Ah, che bello. Sono pronto, certo, certo. Sei pronto, ottimo, bene, allora. Vado. Vai. Allora, qui con me, mi allontano leggermente, un cubo di Rubik, ok? Tutto mischiato. Sì. L'obiettivo di questo gioco è risolverlo in pochi secondi. Quindi cosa faccio? Lo mischio, che è la prima parte. Poi se non riesco a risolverlo, cosa devo fare? Lo prendo, lo lancio in aria, in questo modo, e il cubo di Rubik si risolve completamente. No, fantastico, se fosse così semplice. Io lì che stavo, ci ho provato tante volte, non ci sono mai riuscita. Quindi il segreto è lanciarlo in aria. Ah, va bene, d'accordo. Benissimo. Grazie. Grazie, grazie di cuore, davvero. Grazie a Pasquale e Cesarino. Grazie. Speriamo di risentirci presto, ecco, anche perché questi momenti davvero di leggerezza, poi, sono il preludio, come abbiamo avuto modo di sentire, anche a parole importanti, ecco, che in qualche maniera cambiano la vita, come hanno cambiato quella di Pasquale, come hanno cambiato la tua vita. Grazie, grazie. Grazie a voi per il vostro tempo e buona continuazione. Grazie. Ciao, beh, speriamo di averti presto a San Giovanni Rotondo, speriamo che le nostre strade possano incrociarsi in qualche modo. Allora, noi dove eravamo rimasti? Ho perso il filo della scaletta. Ok, adesso andiamo in pubblicità, Paola, perché l'ultima parte di Just Today sta per arrivare con gli ultimi aggiornamenti e poi i saluti finali.